Grazie. 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 non lo darei a un ripeterino buon esitamo marve per volesmarve sicuro sicuro una volta vista un di dos vueltas super bombe equipo di la fama mientras hercia tog nos no amira el ritmo e fútbol acostumbrati che dos vie campeon segui a 23 queda pendiente a questo cominciare bel come la gente del asunto a qui maniera marfica pisa cava dos anni campion e come sa sempre come trainer che vai molto largo di quere cuore sia metri a busco un altro trainer e panie gas mirando questa direzione adjoine ore e team e non vai molto buon anche con non è stato mal parato però lo che mi chiede mi chiede a busco come entrenatore da me come da patch up a fanegas che la accettata e che da di staff e se è da buon cosa a ruba non mi sted trainers non si non por core con non si cui ai giudano maian con non non trainer ma il fútbol deve piore di cosa che qui con fanegas a affittare e che da staff i veron ma comande a tommi over and the cinema e for all for all roy mi capito naruva si può perdere bucultura di buclu butin un problema hobby grande e si vola hobby team a caid in otro con la mira na mesmas dori con la cultura cai e e muchina via scars treina la via scarp e a chi può essere un tempo di mantenere su cultura oppi oppi ai e corretto mi te ricordare sia tramite una trayectoria más grande y más largo para lo que tu alta campeona di aruba pensava team por ahí treinta y pico masi menta era correcto corretosa exactamente cuánto pero un equipo nago sempre destaca el promedio campeón di copantiano dame para arruba tabata hercia a sentar si a destacar y bar hopi hopi linea e ave nata va ipa defendiendo poi è campeón di anni passata nanta è ultimo campeón di aruba e rollo lo qual ambe la cabbisa ta am te 100% em scubil anto un muestro di aceitacu a venonchinos tinga mucho rombra jesus pas cuta hungari barres back cuta mucho rombra cua meditada in le fida di river play mas na grande abai un apercei a abai studia por lo menos un 6 aia na america e avete i beck iwak pa king ele biunga berg perci adus et seto muestro punanta bim beccas correcto i bala de siglora bala comisalora de invierno prospero trinat bala del poder di equipo di la fama la fama defendiendo di se propi mitar terreno de que bala la banda que lanza 30 e domador lento se toque arcia a le aparicio que bala estamos cambiando combinación e domena lia toque tricolor buscando aquí la penetración peribala está completamente atrás e toque balón morris escalora mori estamos comando em área penal que la torta papa defensa segume tayanga y abalata sale a fossa que de golpe equipo di la fama partido apenas acaba de comisar 0 0 e da cota da pensionano mi sabore da cota da logra 1 victoria o victoria sin ningún problema e da baile de 4 na 26 dan é único problema taco manera no sabi sabi a pasar e punto nanta seguida conta germen de que mes un punto de show para clasificar esta sigue y aceita 300 o porting cierto problema para cierto equipo no pero si bomira maestro margen a informar ori da cota su 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 torneo su campeonato y aquí no daba malo en la de una casa y tu retina cotada y bajinan bastante dolor y cabeza si no da más que grado margen margen también dice para tratar la purpa que nadie ya acabara da salida para la tiro de esquina a favor de equipo y rc a mercia viniendo a ver con formación de 3 defensa 4 volante 3 delantero algo como nos no aguacan de campeonato regular 1 con algo más bien con 4 defensa dos am algo novo ave noche para equipo de arsia nos lo va con edis lo desarrolló para la cruzada será que nada pasa de bb y pia tiro y bajo el bala de repotar de que defensa el rechazo también de mediocampo a labor no se mira rápidamente la fama cueva la avanzando un tiro a largo banda rovesa que nadie no está mirada esa quita lodo wika lodo wika tabai lodo wika tabai prepara también a baila galo de wika y bala da salida banda sacca de gol pero ahora vamos a cambiar de voz de voz de voz de voz de voz sistema defensivo así no vamos a interés campeonato con 4 o de repente para cambiar según mí sobre la fama de un gano con dos spades automaticamente en la sala de defensa de la tirana vía de un momento men tanto a un dinante vida e ore volante atacando equipa de la fama via más desperti un contrataque tricolor la fama banda derecha ya que la mente mi recorre el número no mucho bono pero la fama que vale a todos como el pasado en 12 nata guardo tapa bala también de medio campo santos que bala está toque bonita que la combinación di arsia largo banda rovesa atacando el tricolor tan di solito el partido de 0-0 combinación también atrás back y no está mira coqueto vaina está atacando banda rovesa para buscar ti que tal tiro libre 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 alto delante portico la que la hay ahí ahí la cuesta aquí gómez 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 está buscamos de cúmplica tiro 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 libre tiro libre tiro libre tiro libre ocho Carlos Valladares di Equipo di La Fama tiro libero per la fama santo se qui è chiamato su peita su peita, su peita, su pe là, come che vi sei attacando l'Equipo di La Fama valla se che vi c'è e vi c'è il marco, largo, vanno a diretti buscando combinazione, buscando twin per la balata guardo, tomare facile per l'equipo tricolore saliendo di atras con tiro largo buscando il lateral, preparo per la cabezza la fama da poderà de bala, toque atras, Geoffrey Jacobs que bala, etongue largo bala tamai de profundo, cabezazo defensa di Eercia y aquí na, yanga que bala, tiro aquí na, bala ta tal, jugador en mi campo, Eercia que bala un bia mas, vanno a rovesa aquí na, e number na I don't see numbers man bala valla, atacando Eercia que bala toque atras, un tiro largo e bala ta bim, no se mira co ta sa que ta santos, no? santos, arrua, arrua, arrua coi bala arrua o fa santos, santos aquí ta vai a dengue, tam busca mandi, busque combinazione e taongue aquí na bonita con Maurizio Escalona Maurizio buscando combinazione Maurizio atrasa, vorme mei pa ali a paricio, ali a paricio taongue un banda avanzando il tricolor narizolito buscando il buraco e tiro largo, banda rovese e nos tamira co Eercia atingue bala e peligro, e cruce alto di la di Portigola que namorista mai alto per rechazo de la defensa buscamo el 30 per e bala todo rechazado fuerte alto per equipos de la fama e bala ta pica sale in a banda a mafica a que si poto mira con toco un differenzi a entre Eercia e la fama que toga Eercia può mantener e bala maggiore con la fama non può si dispel maggiore correga c'è la cultura di Eercia ma sto che di bala e la fama va direct Daniel Escalona e taongue rapidamente buscando Nathan banda rovese e nangue bala tauarongane medio campo atacando e tricolorano isolito e toque me vende il 12 qui dà per e barra un quartà per defensa di equipos di la fama la fama buscando il 3 e tranquillità baros play son que banda linea qui nang camina semir valladares carlos tiro largo e bala de biden patrazia e defensa tricolor fácil per portero leio pedoia bastante cortico la fama ta un coach e coach notai et et straf un vega sigumi faro si y último vega sigumi ok tiro largo para tratar no tenia mi campo cabezazo bueno no 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 ningún tricolor bale llega fácil portero portero tricolor malmaceda brandon la fama la fama ahora atrás rilof yanga yanga en medio buscando su combinación robles bale también atrás atacan un cruce ronald ronald eto que ahora saque parte mitad pero bota pa acá hay un via más cabezazo de eugène marta y nos también levala todo rechazar pero rcia un via más de poder de bala un barato reta pa aquí te bala toque atrás y nos también recuta jeffrey jacob estamos como de bala que de bom es toque via mas hercia un bonita de de 12 que la tensión e peligre cruce delante portigol mucho largo de reta de atrás en cabez per bala toda derecha salve a marcas nanta hincapia de bala sale completamente en la banda y ve gaita bon si es un gom es una línea es un cusco es cierto beta y también el besazo cortico toque via mas pero hercia ta poder de bala hercia rapidamente ta vai de ataque aqui nan toque y la fama tiene fácil sin problema ton atras con bedoya bedoya ta va la cabezazo cabezazo ta vince caballa dara esta us como de bata pegare el vengador ta dala bo aqui nan refri ta vise tiro liber 20 número 20 ta quien ronald gómez pero libero equipo de la fama a men si a partir de l'equipa rudy angela bello quanto di remarcarsi mi sa si built ancora ultimo vega que hercia una contra mestre un que hercia tam a bing copi cruze algo que hercia mese pensa di budget que el beseto di lanti gol no momento de cruze sin ambas treni ipa un mejor beseto no l'escorpi mas gol passou durante vega nanti rupi cruze na peligroso con anusate provechaje say ok 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 mauris beck como esta meta pero mary bella como esta bailora por el otro van en te visan a me se vire un más agresivo guancho santos esta cruce buscando su brother para atacando el ya que puse bala del 2 pero ya en marta esta corte jugada para termine medio campo ronald gómez que bala buscando combinación abort tranquilo para que ru esta pero rechazo fuerte de su ángel bala también más aparición de encandela pero fácil dominio de medio que no vaya a dar es barro 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 30 atras jogador angle brecht cabezazo jogador to baytera y refri tabizar saque de banda no tiro libre a favor de la fama pero también la fama está de maría normal bataya en más 6 traje dos peces antes de más movible anterior maría guarda deba bala en poten bala no correcto anto full campeonato por bisa com la fama un paso largo un com maría tan schermo domina bala dune e team completo chance de slayt an si, i loro hanno un'esplorato con Lodovica e il numero 20 che non ha avuto più forte perché non ha avuto la bale e la luce l'equipe non ha avuto la bale con la fama e la difficoltà per andare a attacare la bale si, i loro hanno un'esplorato, non è la defensa del team contrario e per rimarcare mio amico, la Iron Maria è un gol di addor di campionato, con 25 gols e il suo gioco è di Sebastián Montoya di Britannica con Gesù. Attacando per la derecha, per la scuola che mette la fama, hai una perdita bastante pisa. E mi se pisa anche un altro amore, Alex. Tampoco non ha avuto per la fama, lo cual è un creador di Riba Mediocampo, che ha un sladuro di un giugno di Junior, e si cominciano i Gersos Höden, e tre si mani, non puoi una bala. Alex Barros, no? Alex Trump, è un amore, è un amore, è un giugno, è un edione, correttino. Quanti ragazzi, attaccando per la acqua di R себя, ru al largo per la derecha che non mi rasa, wantzando sta corre, wantzando sta corre per ballata corre per le giugno, e no, non sa che di gol, in favor di equipa della fama. Si, non mi ha detto, RSE ata pone pressione in maniera, po' più sabi, per tener un team della fama che non fa nel freddo, che RSE ata che questo defensa leu, fide non gona grande, è deciso che questo tanto è difficile per la fama. ma non ci sono già trompette di La Fama, ma non c'è un altro Brasile, il suo romano, ma non c'è un bel intero, non c'è un tempo. Bruno, è vero. Si, è vero il Brasile, ma come non? Alex, è vero il Brasile. Bruno, ti permette, se non è vero il Brasile, non c'è un problema, i suoi blessure che hanno molestione. Il Brasile, ma non c'è un Gaia. Il Brasile, il Vella, non c'è un bel intero, lui? Già, il Vella, è vero il Brasile. Il tempo di ovega, non ci sono. Il 3, il 3, la partia iniziale del partito, ma non c'è un altro, ma non c'è un altro, ma non c'è un altro, come si è un altro, il Barcellona? Qui va, il Barcellona Pérez. Il 4-0. Il 4-0, la volta, il 2 team di Spagnola Pérez. Il 2-1, il 2-2, il 3-1, il 4-1. Il 4-1, il 3-1, il 2, 4-1. che ti senti il buon trono ma già al tuo mese, però chi dà una caia ottimale, tiro alto e l'antiporticole, che è un capesazzo buonissimo di Daniel Scalo, una balla che è apparito, un tiro largo buscando a Maurice, atacando a Maurice, Maurice, sta avanzando rapidamente che balla, sta ponendo, no, tiene, e tiro di Maurice, ballate che le balla, ballate che di balla, quito un fisso curva, balla, stavo a rechazar, opportunità di gol tricolore mio amico, e mentre tanto, Sibro, stai facendo qui, perché Sibro, va a correre la piazza? Un felice nocci naturalmente, va a votarmi, roi, interpanel, si, buono, non so per un 10 km, Miranda con il boulevard Lop, di otto si manca, di un tren in un gruppo, e buono, Miranda, qui è già, è un attore dominante, però la fama per la tua, è una relazione. Come c'è anche una relazione, si è un attore, ma non so per la tua, è una rica di manca, di un attore di bambini, e si è debilita un team, per tutto il tutto il fatto che da un'enclave, di un attore di una scoria di top scorer, e poi anche un attore di un attore di una sottomazione, e poi anche un attore di 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 un attore. In un coach da poco non è? Correcto, RCA Steven sta con i bici. Esatto, un coach di la fama da poco non è? Si. E se noi stiamo in America, non? Esatto. Esatto, esatto, esatto. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 che interpretedire CrossFit Qu extraordiniere l'appap Dion 2 Si, esatto, esatto. . e tutti i trebi a capo con Ersia con un buon attacchi e a troppo con Eric da Lorebala, 3-1 a 2, Maurizio, Ronald e Steven hanno la linea in base di parte della zona, hanno fatto un'altra scuola e hanno fatto più chance di anotare e questo è qualcosa che se Ersia ha fatto in primo tempo e sicuro non ha fatto un gol per me con il halftime sicuro, sicuro, ma non è la linea e hanno fatto un'altra scuola e non ha fatto un'altra scuola mentre tanto non è il tiro libero per l'equipo tricolore il tempo di regazione, prima di quattro di ora è stato Ersia il più dominante, però è gol, mio amico non c'è ancora tra le balle, Maurizio, qual è altro? Rua Maurizio tirà e la balle passa arriva per il gol, vai a fuori, mio amico non c'è un'altra scuola 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 maurista corre maurista corre l'occhi è giù la coperta è ugliore unсыzza Questo anche qualcosa di buon si non sa bene a stacar un conto vale si fa dolore le relajano a accompagnare Ersia è un'amore Qui si fa spettare In Strenos non lo so si si copia 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 ma hai già duri mesi un folle come su Pia Rears dentro attenzione il tiro di schiena per l'equipo di La Fama alto cabezazzo gol verde di La Fama Gleison Barros ha notato un cabezazzo fulminante la Fama arriva 1-0 in 18 minuto ti promettem po S'è qui ta fútbol Roy S'è qui ta fútbol ora che buona ta scorer un chance non ha ha o doth chance e non ha scorer e c'è qualcosa che hai sempre che hai difficoltà con le due spalle situazioni non hai notato un equipo che hai defende buone situazioni assinò a futa scorer o picolano vedi situazioni assinò preveni di aia situazione assinò durante vega sobo saco sei tovo debilità su rinnius trove depositare pala dei metri mi amigui è partiro tamira uno zero è sia mir ande ball però scopo a trac presenta mia amigua falta hopi da valore seca equipos diarcia è paler bus a parigiò che deve chevala tiro libero pitazò 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 ajà va a la borsa rapidamente jesús jesús pace che va avanzando jesús pace jesús è da cruzè mi amigò tè qui classe qui tiro directo di bagol fàcil per portero leo bedoya leo bedoya leo bedoya sa che bala largo non tenga pia rua e bala taccaya war bomba alla dredge cammina guanjo te busco mani core per le bala te baila che bala ta salina banda bala ta salina banda rick engelbrecht da sa che bala la fama 19 va yendo 20 partido che tu vai mio amigò 1 0 la fama da vai arriva atacando banda rovese por equipos diarcia la precisà da buscante gol mio amigò e bala cruza e bala da var falla e tiro con cabeza da rechazare bala mi amigò da ronald ronald ha avivinché ansi qui però non aprovechare buon se tiro tanti qui fofo bel algo com'è comenta con bel non mi sa si bel d'accorda tempo con bel d'avattre train a noi in RCA con amico ronald junto a su bife con la bife con la bife con la bife con la bife ma metà wacca dos bala cool e la purba di tira di buco anche like me time informa che tira domani hopeless un modo di calibra cena by RCA e per seleccione generale su ritmo di trappe corretto corretto e e tammi lo che mi fanno di jeta maniera che tauta core e con la corretto corretto e noto tecnica grazie 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 a tutti grazie 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 grazie